Io adoro la plancia, la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale Allora facciamo la prima plancia, posiziono per un minuto questa posizione che potrebbe essere allungata però di solito tra un minuto e l'altro io posso spostare il movimento della plancia Allora tiro su gli abdominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio come avvicinando proprio una piccola trazione, gli abdominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'abdome e lo proviamo a tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi siamo già a 30 secondi ragazzi, complimenti, continuate a tenere questa posizione andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi ragazzi, tenete gli abdominali belli, tesi, 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 ok ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1, and relax ottimo, passiamo al prossimo esercizio mettetevi subito in posizione per la plancia laterale invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok da sotto una torsione in avanti, in avanti, tiro, abdominali tesi una bella torsione, in avanti, ancora, tiro in avanti, ah sì ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete le minuti che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare ok, ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti ok, continui, vai 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 vai, abdominali tesi, senti il lavoro sulla plancia ci mancano ancora, 10 secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, appreso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima 3, 2, 1, cambiamo esercizio andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, un minuto da adesso portando in avanti il fianco inferiore, ok, porto in avanti, porto in avanti, ok e la cosa importante quando lavori all'abdominale è di dare il meno recupero possibile, ok l'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok, a arrivare chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok, ovvio anche l'alimentazione incide ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rasoda, ok, mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le plance perché le plance mi permettono di lavorare senza strassare il collo e la schiena continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo dai, 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 spingo in avanti, spingo in avanti, tira, tira ultimi 10 secondi, vai, 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 10, ancora e le ultime 5, 4, 3, 2, 1, and relax, passiamo sul prossimo esercizio io adoro la plancia, la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale, allora facciamo la prima plancia, allora posiziono per un minuto questa posizione che potrebbe essere allungata però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia, allora tiro su gli abdominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione, gli abdominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'abdome, ok, e lo proviamo di tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi ragazzi, complimenti, ok, continuate a tenere questa posizione, andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate, ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi ragazzi, tenete gli abdominali belli, tesi, 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 ok, ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1, and relax, ottimo, partiamo al prossimo esercizio.